Facciamolo questo principio dei vasi comunicanti con le mani. Guarda, guarda, vedi come nei tre contenitori raggiunge la stessa altezza. Si vede? Sì, sì. A posto, si vede benissimo. Però vi voglio farvi dire una cosa. Guarda. Questa è figa. Questa è figa questa cosa. Se i contenitori io li vado ad inclinare, l'altezza rimane la stessa. Guardate, vedete che rimane la stessa. E tu inclini, inclini, inclini. Aspetta, dammi quel coso là. Perché qua ti voglio far capire un'applicazione dei vasi comunicanti. Guarda, le cisterne stanno nei posti alti. Le case stanno nei posti bassi e c'hanno i rubinetti. Se io apro il rubinetto, avvicina, guarda che pisceramo, eh. Più verso là. Ok, guarda se apro il rubinetto. Che succede se apro il rubinetto? Esce l'acqua. Se lo chiudo? Smette. Tramite il principio dei vasi comunicanti, una cisterna funziona in maniera molto semplice. È sufficiente costruire le case più in basso. Grazie. 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 Grazie.